pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa terza domenica di quaresima incontriamo il famoso testo della purificazione del tempio da parte di gesù visto il tempo liturgico nel quale ci troviamo ci soffermiamo in particolare su due punti purificare il cuore essere ferventi nel bene andiamo al primo punto purificare il cuore gesù va al tempio a gerusalemme era considerato luogo della presenza di dio luogo dell'incontro della comunità con lui va al tempio per la festa di pasqua la pasqua dei giudei entrato nel tempio cosa trova un mercato nell'area esterna infatti vi erano i cambiavalute e i venditori di animali cambiavalute che cambiavano le monete perché per lasciare l'offerta prevista al tempio di mezzo ciclo bisognava avere la moneta locale non si potevano portare nel tempio monete greche o romane che avevano impresse sopra l'immagine dell'imperatore o di altri dei e poi vi erano i venditori degli animali perché era necessario offrire dei sacrifici colombe per i poveri pecore o buoi per i più ricchi per celebrare appunto la comunione con il signore gesù trova tutto questo trova cioè che il mercato ha il primato trova che la casa del padre suo cioè il luogo della presenza di dio è diventato invece un luogo di compravendita e cosa fa compie un gesto profetico prepara una frusta di cordicelle butta all'aria tutti i soldi i tavoli dei cambiavalute tira fuori spinge via tutti gli animali e dice non fate della casa del padre mio un mercato i giudei chiedono a gesù un segno che ne attesti l'autorità gesù come spesso avviene in giovanni risponde in forma enigmatica giocando sul significato della parola tempio e dice distruggete questo tempio io in tre giorni lo farò risorgere e parlava del tempio del suo corpo cioè fa capire che il luogo per così dire della presenza piena di dio in mezzo a noi non è un tempio di pietra ma è lui risorto che lo si incontra dove concretamente nella comunità riunita che celebra insieme quindi miei cari c'è un mercato oltre a quello del tempio di gerusalemme sul quale la liturgia di oggi vuole che soffermiamo il nostro sguardo qual è quel luogo che specialmente in questo tempo di quaresima il signore vuol purificare per mezzo della sua parola e dello spirito il nostro cuore e la nostra interiorità più in noi coltiviamo la relazione l'unione con dio e quindi ecco la preghiera la meditazione della sua parola la custodia dei pensieri l'incontro vivo con gesù nei sacramenti tanto più veniamo sdoganati dal nostro egoismo tanto più ecco la libertà della generosità ecco la misericordia ma tanto meno coltiviamo tutto ciò tanto più il nostro cuore diventa un mercato un emporio luogo cioè di entrate e uscite luogo di compravendita cioè luogo dove vi è mancanza di generosità e di gratuità queste parole di gesù sembrano quasi dirci non fate del vostro cuore della vostra vita un luogo di calcoli dove il metro di giudizio e l'interesse personale la convenienza il piacere personale quante volte manchiamo di gratuità nei confronti di dio l'abbiamo ridotto un distributore di grazie dove mettiamo la moneta della preghiera lo spicciolo del sacrificio offerto in cambio ci aspettiamo quello che vogliamo che chiediamo anziché vivere un rapporto d'amore e di fiducia viviamo come dicevano i profeti dell'antico testamento un rapporto di prostituzione con dio do per ricevere ti pago per ottenere in cambio le tue prestazioni quante volte la mancanza di gratuità nel rapporto con dio emerge nell'arco della nostra vita camminando quando soprattutto incontriamo le difficoltà prove momenti difficili e tante volte emergono parole tipo ma proprio a me hai fatto questo ma come io che cerco di io che ti offro tante cose ecco vedete questi momenti spurgano quelle mancanze di fiducia gratuite che ancora abbiamo nel nostro cuore a queste domande il signore con un sorriso ci risponde ma tu ti fidi di me ti fidi che io ti amo che sono sempre con te ecco il signore viene per purificare il nostro rapporto con lui perché il nostro cuore non sia un luogo di mercato e di conseguenza non lo siano neanche le comunità cristiane va da sé che se purtroppo il cuore di un pastore di una comunità che sia parrocchiale diocesana è un mercato il clima che si respirerà sarà quello di un mercato e cioè un luogo di compravendita dove c'è mancanza di generosità un dare per ricevere un clima magari dittatoriale di potere o di guadagno di attaccamento ai soldi per cui anche le cose sante e sacre di dio sono finalizzate ai propri interessi egoistici personali e soprattutto mondani quante volte purtroppo si fanno delle cose solo per mettersi in mostra si ambisce a ruoli e a incarichi con i quali cercare di sublimare i propri vuoti interiori le proprie mancanze di autostima quante volte ancora purtroppo c'è la scalata al potere perché perché purtroppo il cuore è un mercato è un guazzabuglio irrisolto purtroppo non si sta lasciando veramente entrare il signore con la sua tenerezza e la sua misericordia chiamando per nome ciò che non va e lasciandosi davvero convertire fino in fondo per riscoprire la gioia che dà il servire per amore gratuitamente ma questo può intaccare anche le comunità religiose il modo di servire da parte dei responsabili può intaccare il mondo laicale la presenza ai ministeri non sono espressione di un servizio gratuito ma ricerca di se stessi usando le cose di dio per il proprio guadagno personale che sia un ritorno d'immagine che sia un ritorno economico che sia un ritorno di autostima vissuta magari a discapito degli altri che si tengono a debita distanza ecco perché il signore viene a purificare a rinnovare perché cuori e comunità siano sempre più trasparenze della sua presenza ecco il secondo punto è il fervore per il bene lo zelo per la volontà di dio i discepoli alla luce della risurrezione del signore interpretano l'agire di gesù con il salmo 69 10 lo zelo della tua casa mi divorerà questo salmo è un'invocazione di aiuto in una situazione di estremo pericolo a causa dell'odio dei nemici è la situazione che gesù vivrà nella sua passione cioè lo zelo per il padre il desiderio della nostra salvezza porterà gesù fino alla croce il suo è lo zelo dell'amore che lo spinge al sacrificio di sé non quello zelo falso che presume di servire dio facendo violenza agli altri o che si impone sugli altri dominandoli e asservendoli il suo è quel fervore che diventa vita donata infatti il segno che gesù darà come prova di tutto ciò è la sua morte risurrezione distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere e parlava appunto del tempio del suo corpo tutto ciò miei cari ci dice che tutta la vita di gesù è stata mossa da questo entusiasmo da questo fervore per il padre da quest'amore folle per la nostra salvezza perché finalmente vivessimo un rapporto vero profondo con lui e fossimo capaci di donare con amore la nostra vita tutta la vita del signore attraversata da questo fervore interiore e il suo è lo zelo dell'amore che paga di persona per il bene degli altri cosa ci dice tutto ciò in conclusione ci dice qualcosa di meraviglioso e qualcosa anche da chiedere miei cari cioè di essere ferventi nel bene come dice san paolo siate ferventi nel bene servite il signore ogni cosa che fate fatela di cuore come per lui noi abbiamo bisogno di chiedere al signore la grazia e di alimentare ogni giorno il desiderio della santità del fare la volontà di dio del vivere in pienezza ogni singolo istante della nostra vita così breve e così preziosa nel libro dell'apocalisse gesù risorto mette in luce una malattia dell'anima tremenda che è la tiepidezza addirittura dice poiché non sei né freddo né caldo io sto per vomitarti dalla mia bocca sono parole forti che scuotono perché guardate uno può essere zelante nel bene ed è una grazia oppure può essere smarrito perso perché in questo momento può essere una disgrazia ma potrà arrivare un giorno magari a ravvedersi seriamente e iniziare un serio cammino di conversione il problema è quando uno ristagna in una tiepidezza mediocre che non giova né a lui né agli altri ci si riduce ad essere come delle paludi che ristagnano si imputridiscono e alla fine non alimentano vita non generano vita come fare per trovarlo trovarne sempre più o ritrovarlo mi rifaccio alla parola entusiasmo che viene dal greco enteos innanzitutto in dio ritroviamo fervore in una vita interiore coltivata in una vita di preghiera e di adesione a cristo di cammino comunitario serio seconda cosa mettendo il cuore in ciò che facciamo quante volte le nostre azioni sono a metà ne facciamo mezze pensiamo già ad un'altra vogliamo toglierci quello che facciamo quanto prima possibile per far già qualcos'altro o facciamo le cose come si suol dire con il collo tirato e siamo sempre frustrati ansiosi perché perché non siamo presenti a noi stessi e soprattutto non sappiamo neanche per chi facciamo quelle cose san paolo ci ricorda fate tutto di cuore come per il signore cioè fatelo per lui mettete tutto voi stessi in ciò che fate e anche la più piccola cosa fosse anche solo raccogliere uno spillo da terra brillerà di luce eterna perché non sono le cose che facciamo che danno valore a noi ma è dal come noi le facciamo che prendono il loro valore e allora io posso fare ogni giorno le stesse cose ma con amore per dio e per gli altri quelle cose anche piccole brillano d'eternità chiediamo allora la grazia al signore che purifichi sempre più il nostro cuore e che ci renda davvero ferventi nel bene saremo così come delle candele che accese si consumano e nel consumarsi fanno luce a tanti che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti